Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video, oggi siamo qui perché ho visto già che qualche altro youtuber l'aveva già fatto ma comunque non potevo non fare io il video perché sono uscite le nuove figurine della Formula 1 già come voi sapete avevo già aperto, ho anche iniziato a fare l'album con le figurine che si attaccano praticamente ha trovato già 16 autografi su 20 che sono i piloti ma questo qui era quello della stagione scorsa infatti quest'anno la Tops sempre perché questo qua era sempre della Tops ha fatto quelle Turbo Attack, diciamo quelle che ci sono in America e in Inghilterra perché già le fanno ogni anno quest'anno sono anche sparcate in Italia c'è un pacchetto con le Clerc che voglio aprire per ultimo, credo sia il più fortunato alla fine quindi iniziamo subito col video e ovviamente con l'apertura dei pacchi e se arriviamo a 5 mi piace mi porterò un altro video dove aprirò altri pacchi della Formula 1 c'è anche un gioco, vabbè poi questo ne parliamo nei prossimi video allora guardate qua i nostri 3 pacchetti iniziamo con il primo, guardate anche questa inquadratura uh subito guardate anche dietro ci sono gli stemmi ah ok, ottimo, questo era quello che volevo perché ci sono le informazioni per il gioco guardate ci sono gli stemmi quindi sappiamo che c'è una carta Red Bull Ferrari, Alpine, Alfa Romeo, Formula 2, ancora Red Bull una carta per il gioco, Mercedes, Williams e ancora Red Bull quindi subito, Vesta, nooo, no ragazzi Vesta, Pendoro, la nostra prima figurina non ci credo ragazzi, non ci credo nooo, no ragazzi il video finisce qui praticamente Russell fantastiche queste carte live action queste qui sono quelle credo che siano quelle per per giocare credo, poi non lo so ah ecco rotture del motore praticamente questo è un gioco sempre per il gioco poi si fanno anche le le livree delle auto noi abbiamo quella di Verstappen l'inizio cioè la parte di dietro praticamente poi abbiamo un pilota della Formula 2 abbiamo Giovinazzi non speciale però vabbè debutto quello del debutto Ocon e abbiamo Leclerc ottimo così abbiamo almeno una Speedster di Leclerc e abbiamo anche la seconda parte della livrea della Red Bull ragazzi ottimo inizio cioè da dire già che abbiamo iniziato con con Verstappen con il nostro Russell se non mi sbaglio si era lui ah ok ma quindi c'è in ogni biglietto praticamente cioè in ogni altra cosa qui per vedere dopo me lo leggerò abbiamo una McLaren Alfa Tauri Mercedes Williams Red Bull Alfa Tauri Mercedes Alfa Tauri Ferrari Ferrari ok quindi iniziamo con le Ferrari un Leclerc speciale Science speciale nooo ragazzi Science speciale ancora Science quello come il nostro Russell ragazzi che belle gare che belle figurine si legare va bene abbiamo una parte della Rivrea dell'Alfa Tauri abbiamo il debutto di di Bottas altra parte dell'Alfa Tauri che mettiamo qui abbiamo un Speedster di Verstappen poi abbiamo una parte dell'auto di di questo qui è la come cavolo si chiama la Williams poi abbiamo Toast questo è tosto ragazzi e abbiamo una attenzione abbiamo una parte dell'auto della Mercedes e abbiamo un live action di Lando Norris ok e abbiamo ora il pacchetto con Leclerc forza Ferrari e iniziamo con la prima carta forse ve l'ho spoilerato un po' già McLaren poi abbiamo Alfa Romeo che sono queste abbiamo la Red Bull l'Alpin Formula 2 abbiamo anche una Ston Martin finalmente non ne abbiamo trovate Mercedes carta per giocare poi abbiamo attenzione magari un Mazepin speciale un As e ancora Mercedes quindi niente Ferrari quindi iniziamo no Schumacher debutto un rookie Ricciardo race superstar bella carta abbiamo un agente per giocare Toto Wolf ottimo perché ci sono anche i team manager live action di Strull abbiamo Sato bella questa ok quindi sono così del team Alonso con con e poi abbiamo quindi anche Vestapen con Perez bella queste carte giovinazzi questo è doppione forse forse questo è doppione giovinazzi no 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 non è doppione meglio così ma anche poi questo per le qualifiche lando norris e quindi ragazzi finisce così lo sbustamento delle figurine abbiamo trovato comunque due della della mercedes poi altri due dell'alpha tauri il di dietro di della williams e il davanti della mercedes poi contiamo pure il nostro le nostre fantastici fantastiche carte speciali di Vestapen e di Sainz quelle di Russell di nuovo quella di Sainz che al momento eccola poi abbiamo anche quella speciale di Ricciardo e di Mick Schumacher niente di Leclerc tranne quel live action e quella per le qualifiche per il gioco sempre se non mi sbaglio quindi ragazzi io vi ringrazio per aver visto questo video iscrivetevi campanelline se arriviamo a 5 mi piace vi porterà un altro sbustamento delle figurine della formula 1 ciao ciao